Allora, c'è uno che si risveglia dopo un'anestesia in operazione importante, no? Sta lì, piano piano apre l'occhio, vede tutto sfogato e vede uno davanti a lui tutto vestito e bianco. Guarda che fa così. Grazie dottore, lei mi ha salvato la vita. Proteggina. Ma quale dottore? Sono San Pietro.